e mercoledì 5 aprile buongiorno Friuli e bentrovati in nostra compagnia per questa prima diretta dal mattino che inizia come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi leggiamo assieme le previsioni a cura dell'osmerarpa eccole oggi avremo nella notte sulla fascia occidentale probabili piogge sparse rovesci temporaleschi anche con piogge localmente abbondanti al confine con il cadore dove potrebbe esserci neve fino a 1300 metri al mattino su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto in giornata variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio vediamo anche le temperature minime di 9 12 gradi in pianura 12 14 gradi sulla costa e massime che oggi raggiungeranno i 19 22 gradi in pianura qualche grado in meno 17 19 gradi di massima invece sulla costa vediamo velocemente anche qual è la situazione viabilità sulle principali autostrade della nostra regione ecco la cartina che troviamo sul sito di infotraffico che al momento non ci segnala eventi particolari nel tratto di autostrada presente nella nostra regione e allora andiamo velocemente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo come aprono oggi i principali quotidiani italiani il corriere della sera apre con una notizia che ci arriva dalla siria raid sui bimbi uccisi con il gas siria strage nella provincia ribelle oltre 60 morti 11 sono piccoli e bruxelles accusa assad damasco smentisce l'uso di armi chimiche photoshop delle vittime la casa bianca dice colpa di obama questo il titolo di apertura che poi rivedremo anche sugli altri quotidiani nazionali raid aerei su un villaggio siriano controllato dai ribelli almeno 60 i morti 11 bambini le armi sarebbero state potenziate con un agente tossico secondo i medici sul posto sarebbe sarin un gas nervino l'unione europea accusa assad che però smentisce l'uso di armi chimiche andiamo anche nel taglio alto andiamo a vedere un'altra notizia sartori il maestro della politica dio al grande studioso e editorialista ecco il titolo del corriere della sera aveva 92 anni andiamo su repubblica adesso andiamo a vedere come apre repubblica anche in questo caso vediamo nel taglio alto la notizia che ci arriva dalla siria l'orrore negli occhi dei bambini uccisi con il gas damasco però nega l'uso di armi chimiche protestano unione europea e turchia trump come abbiamo letto anche sul corriere dice colpa di obama e poi invece per quanto riguarda le notizie che ci arrivano dal nostro paese over 40 in fuga all'estero è record nel 2016 quasi 120 mila italiani si sono trasferiti in altri paesi soprattutto studenti e neolaureati ma in sei anni sono raddoppiati gli emigrati con i capelli grigi tra le mete cina e emirati arabi per una sfida per la carriera per necessità non è mai troppo tardi per emigrare nel 2016 gli italiani che si sono trasferiti all'estero sono stati 115 mila ma la corte di expat che ha visto la crescita superiore è quella tra i 40 e i 50 anni tra il 2008 e il 2014 il loro numero è quasi raddoppiato da 7.700 a 14.300 chiudiamo repubblica adesso facciamo una carrellata veloce anche sulle altre prime pagine andiamo a vedere il manifesto che oggi titola così orrore un sospetto attacco con gas tossico ha ucciso ieri in siria 58 civili haidlib tanti i bambini rimpallo di colpe ed ecco la foto in primo piano sul manifesto chiudiamo anche questo quotidiano andiamo a vedere adesso la stampa il titolo di apertura ci dice i gas uccidono i bambini siriani armi chimiche sulle città ribelli 58 vittime l'europa accusa sad che nega testimonianze raccontano di attacchi sugli ospedali e poi ancora andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale che invece apre con un'altra notizia fazio nc esultano salvi i paperoni rai il governo pronto a far saltare il tetto agli stipendi delle star pignoramenti per chi non rottama le cartelle di equitalia due notizie quindi inserite nel titolo principale del giornale che mette di spalla la notizia del raid con il gas in siria andiamo a vedere anche la prima pagina di libero ecco il titolo si parla dello sciopero di alitalia in programma per oggi alitalia crepa loro scioperano sindacati fuori di testa restano otto giorni per salvare la compagnia e i dipendenti bloccano tutto nella speranza che lo stato butti dentro altri soldi eppure una soluzione ci sarebbe imitare swiss air fatta fallire e rimessa in pista di in meno di un anno dice libero andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del fatto quotidiano in apertura una notizia che riguarda il partito democratico 150.000 tessere abusive e titola il fatto iscrizioni fuori tempo massimo condonate dal partito di renzi il 6 marzo erano 296.000 ma colpi di deroghe sono diventate 450.000 e poi nel taglio alto vediamo siri all'intoccabile assad ha gasato 60 civili col sarin andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del sole 24 ore che titola così privatizzazione no a retromarce paduan all'assemblea del partito democratico sulle dismissioni niente moratorie dice il ministro che dribbla il tema fiscale manovrina con lotta all'evasione tensioni su nuove tasse e catasto ma l'aumento delle accise sui tabacchi resta in campo se la strada politica della manovrina sembra ormai in discesa in vista del def restano ancora in campo per il governo i nodi privatizzazioni e catasto i due temi sono stati al centro dell'incontro di ieri fra il ministro dell'economia pier carlo paduan e i deputati del pd a restare alta e la tensione proprio sulle tasse sul mattone mentre sulle dismissioni da cui sono attesi 8 miliardi e mezzo di entrate il ministro è netto no a qualsiasi ipotesi di moratoria perché senza interventi diventerebbe complicato evitare ancora una procedura da bruxelles per debito eccessivo e dribbla il tema fiscale correzione con la lotta all'evasione queste le parole di paduan chiudiamo anche il sole 24 ore andiamo un attimo sulla gazzetta dello sport che apre con la coppa italia ieri sera la gara di ritorno tra lazio e roma ha vinto la roma ma passa la lazio lazio si spallata spalletti coppa italia in zaghi va in finale i bianco celesti controllano sempre il match in vantaggio per due volte rendono vana la rimonta della roma che alla fine vince 3 a 2 e questa sera ci sarà l'altra partita che decreterà l'altra finalista fra juve e napoli juve che ricordiamo l'andata vinto per 3 a 1 contro il napoli torneremo dopo sulla gazzetta dello sport così come sugli altri quotidiani sportivi nazionali anche locali adesso spostiamo la nostra attenzione su messaggero veneto piccolo e gazzettino ecco la prima pagina del messaggero veneto di udine il titolo di apertura eccolo negozi e pressing per pasquetta le grandi catene e alcuni comuni chiedono l'apertura sindacati contrari questo è il titolo e poi vediamo nelle pagine interne l'articolo che ci riferisce appunto delle ultime decisioni sulle chiusure festivo obbligatorie negozi aperti a pasquetta la giunta ci pensa richiesta della grande distribuzione e di alcuni municipi in attesa della sentenza della consulta sindacati contrari la giunta non venerdì ma nella seduta successiva valuterà la possibilità di concedere a tutti gli esercizi commerciali della regione di aprire a pasquetta in deroga alla legge regionale che inserisce il lunedì dell'angelo tra le dieci festività di chiusura obbligatoria eccezione fatta per quei comuni giudicati a prevalente economia turistica negli ultimi giorni infatti sul tavolo del vicepresidente Sergio Bolzonello è arrivata la richiesta firmata da alcuni municipi e dai rappresentanti della grande distribuzione di concedere una sorta di liberi tutti nel periodo compreso tra l'udienza della corte costituzionale e la pronuncia dei giudici sulla legittimità della norma regionale impugnata dal governo considerato quindi che l'udienza è prevista per l'11 aprile e che normalmente le sentenze non vengono pronunciate prima di una decina di giorni il rischio è quello che a pasqua e pasquetta 16 e 17 aprile si impongano chiusure con relative sanzioni per gli inadempienti che potrebbero risultare prive di valore in caso di bocciatura da parte della consulta da qui perciò la richiesta di deroga che la regione sta valutando. Ritorniamo però adesso in prima pagina e andiamo a vedere anche le altre notizie andiamo subito a centro pagina dove vediamo una foto del nuovo stadio della Dacia Renia uno stadio da vivere sette giorni su sette titola il messaggero dal centro congressi alla piscina dai negozi ai locali e poi nelle pagine interne vediamo una doppia pagina che ci illustra come sarà il nuovo stadio nella pancia dello stadio Friuli piscina e ristoranti l'udinese dice tutto pronto per il prossimo campionato ci saranno anche centro fitness e museo dello sport la società bianconera pensa a un impianto a misura di famiglia da vivere sette giorni su sette e non solo in occasione delle partite ed ecco anche una mappa di come sarà questo nuovo stadio vediamo le aree colorate che ospiteranno il centro congressi, il museo dell'udinese calcio centri medici, uffici, caffè, birrerie, ristorante e tante altre realtà nella pancia appunto della nuova Dacia Arena andiamo a leggere anche le prime righe dell'articolo di Christian Rigo uno stadio a misura di famiglia da vivere sette giorni su sette non solo in occasione delle partite con un centro congressi, il museo dello sport friulano e quello della società bianconera un fitness center con piscina, sale giochi, negozi sportivi e anche caffè, birreria e ristorante oltre a un centro medico riabilitativo all'avanguardia per mettere a disposizione di tutti un'assistenza di altissima qualità analoga a quello di cui è beneficiano i calciatori e non è finita qui perché il sogno dell'udinese è quello di fare della Dacia Arena una vetrina per le eccellenze e le peculiarità anche enogastronomiche del Friuli un sogno che potrebbe presto diventare realtà grazie alla legge sugli stadi ecco poi ancora tutta la pagina e tutto l'articolo che prosegue che vi lasciamo leggere noi andiamo adesso a vedere anche le altre notizie a proposito di Made in Italy anche Made in Friuli Venezia Giulia Friuli protagonista al Salone del Mobile oltre 60 aziende presenti a Milano il riconoscimento di Mattarella ne vediamo anche una foto ieri dell'inaugurazione del Salone del Mobile presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella la riscossa del Mobile Mattarella elogia il Friuli il Presidente distretti produttivi specializzati vanno sorretti nell'innovazione il settore è in salute grazie ai buoni risultati dell'export e all'appeal del design ieri c'eravamo anche noi al Salone del Mobile di Milano qui dedicheremo uno speciale che andrà in onda questa sera uno speciale del TG quindi appuntamento questa sera alle 21 per andare a scoprire anche le aziende della nostra regione presenti al Salone di Milano da sole o con il cluster le aziende regionali mirano a nuovi clienti grandi nomi e piccoli artigiani mostrano con orgoglio le novità arredi per la casa e l'ufficio le tendenze nascono nel nord est e poi vediamo anche tutti i numeri del settore legno arredo in Friuli Venezia Giulia un settore che pesa per il 2% sul pil del paese ecco i numeri ritorniamo adesso in prima pagina e dall'economia passiamo alla cronaca una cronaca che ci riferisce di un'ennesima tragedia sulle montagne della nostra regione un uomo e una donna sono precipitati mentre stavano cercando di scalare il Jof Fuart tragedia sul Jof Fuart muoiono due alpinisti due alpinisti sloveni erano legati erano incordata e sono precipitati sono stati trovati morti ieri di loro non si aveva notizie non si avevano notizie da alcuni giorni ecco il titolo cadono legati trovati morti un uomo e una donna perdono la vita sugli Jof Fuart sono due alpinisti sloveni ecco le loro immagini vediamo anche le immagini dell'intervento del soccorso alpino le loro auto sono state trovate nel parcheggio sotto il sentiero che conduce al rifugio Corsi gli esperti sottolineano che in questi giorni c'è sì bel tempo ma la neve è ancora insidiosa i soccorritori raccomandano prudenza partite attrezzati senza sottovalutare i rischi e poi ancora sempre per quanto riguarda la cronaca lo ricorderete nei giorni scorsi il caso della ragazza che frequentava una scuola media dell'udinese che si è sentita male dopo aver assunto delle anfetamine droga alle medie l'inchiesta si allarga dopo il malore di una studentessa coinvolti altri minori resta in carcere lo spacciatore l'attività era sistematica pasticche di metanfetamina diffuse tra i banchi di una scuola media con la complicità di minorenni ragazzini di 14 o 15 anni che assumevano sostanze chimiche derivate dall'anfetamina come stimolanti dietro al malore in classe di una quindicenne in un istituto dell'interland udinese ci sarebbero le conseguenze di un flusso di sostanze psicotrope dirette proprio ai minori e non si tratterebbe di un caso isolato non stando a quanto sta fiorando dalle prime indagini delegate dalla procura e carabinieri della compagnia di Udine su quanto accaduto in un istituto dell'interland udinese nel corso della mattinata di giovedì scorso è destinata dunque ad allargarsi e a coinvolgere anche la procura dei minori di Trieste l'inchiesta coordinata dai magistrati di Udine che hanno aperto un fascicolo per lesioni come conseguenza di altro delitto ai sensi dell'articolo 586 del codice penale e poi ancora sempre per quanto riguarda la cronaca al villaggio del sole appartamento in fiamme donna salva per miracolo l'incendio è divampato ieri nelle prime ore del mattino in Val Pesarina una vicina di casa ha soccorso la proprietaria intossicata morti i suoi tre gatti viva per miracolo scrive il messaggero veneto una donna udinese di 58 anni che è rimasta intossicata nell'incendio divampato ieri nelle prime ore del mattino in un'abitazione di villaggio del sole e vediamo il titolo vediamo tutto l'articolo e anche il racconto di una vicina gridava aiuto sono a corsa c'era tantissimo fumo nel vano scale ho avuto paura sentivo il crepitio del fuoco e poi ancora andiamo a vedere qualche altra notizia sempre sulla prima pagina del messaggero veneto di Udine vediamo per quanto riguarda la pagina della cultura il diario di guerra la duchessa d'Aosta con i soldati al fronte troviamo tutto l'articolo nelle pagine interne e poi ancora vediamo la presentazione a Gemona di un film western il professore del cinema torna nel far west andiamo allora nella pagina della cultura e vediamo assieme l'articolo che ci annuncia appunto la presentazione domani a Gemona del libro di Carlo Gabershek duello al sole l'epopea di un grande classico ecco il titolo e poi abbiamo tutto l'articolo chiudiamo il messaggero veneto di Udine e andiamo adesso sul messaggero veneto di Pordenone vediamo assieme il titolo che apre la prima pagina di Pordenone Piazza della Motta è l'ora si parla ancora dei dibattiti in città degli incontri con i cittadini per disegnare il futuro di Pordenone insieme per la città del futuro noi mettiamo il caffè e voi le proposte l'appuntamento oggi è in Piazza della Motta a Pordenone alle 10 e 30 dalla permanenza del parcheggio all'ex biblioteca dal futuro del carcere al nobile interrompimento diteci la vostra vi aspettiamo dice il messaggero veneto ritornando un attimo sulla prima pagina non avevamo visto prima l'articolo che troviamo nel taglio alto e che ci riferisce delle abitudini dei friulani per quanto riguarda l'utilizzo dei treni i treni nuovi e veloci ma i friulani preferiscono l'auto passeggeri in picchiata peggio di noi solo Sicilia e Calabria treni nuovi più veloci e puntuali scrive Riccardo De Toma ma i cittadini del Friuli Venezia Giulia preferiscono l'auto poco più di 1 su 100 infatti sceglie il treno per i suoi spostamenti giornalieri per l'esattezza 1 su 92 una media che fa della nostra regione la terz'ultima in Italia andiamo adesso sul messaggero veneto di Gorizia la questione migranti in primo piano oggi nell'Isontino nuovo centro di accoglienza ma Romoli chiede lo stop sindaco furioso per la possibile apertura di una struttura da 30 posti in via Trieste il consigliere Fabio Gentile dice la prefettura è un'agenzia immobiliare per stranieri l'operazione con la quale si vorrebbe creare a Gorizia in via Trieste un altro centro da 30 posti per migranti va sospesa queste le parole del sindaco di Gorizia Romoli chiudiamo anche questa prima pagina e andiamo adesso sulla prima del piccolo di Trieste vediamo assieme il titolo di apertura motorizzazione la fuga da Trieste direzione regionale a Udine autoscuole e tassisti in rivolta sul nuovo assetto una motorizzazione civile regionale con la direzione a Udine e quattro sedi territoriali nelle province e la rivoluzione innescata dall'abolizione delle province che a Trieste sta comportando problemi alle categorie che lavorano a stretto contatto con gli uffici tassisti, autoscuole, agenzie di pratiche auto, scuole nautiche l'accusa è che ora c'è una certa confusione ci sono incertezze sulle competenze con conseguente rallentamento nell'erogazione dei servizi e poi ancora vediamo anche la fotonotizia che troviamo a centro pagina e che ci riferisce dei tempi lunghi dei funerali a Trieste l'addio al caro estinto deve attendere titola il piccolo si allungano i tempi dell'addio al caro estinto ma sui motivi a Cegas APS AMGA che chiede 61 celle frigorifere e un forno crematorio in più e imprese di pompe funebri si dividono chiudiamo il piccolo e andiamo adesso sulla prima pagina del gazzettino di Pordenone andiamo a vedere le notizie principali in apertura sul gazzettino di oggi vediamo la notizia dell'introduzione dei controlli più serrati ai confini tra Slovenia e Croazia Slovenia e Croazia confini blindati di lettiva europea controlli strettissimi antiterrorismo sulle auto alle frontiere per l'Istria e c'è l'incubo code come abbiamo detto nei giorni scorsi a Mestre e protesta delle lenzuola contro la moschea frequentata dai kossovari arrestati e poi vediamo anche sul gazzettino la notizia dei raid in Siria raid con i gas strage di bambini morta l'umanità scrive il gazzettino venendo alle notizie locali vediamo il titolo che ci riferisce della protesta dei migranti in città protestano i profughi il corteo sfila in città il sindaco dice più doveri una trentina di richiedenti asilo ha marciato ieri dal parco San Valentino fino alla prefettura per dar voce ai problemi che è costretta ad affrontare ogni giorno dobbiamo dormire all'addiaccio senza neanche i bagni il sindaco Ciriani risponde a tono e organizza la marcia dei doveri e poi ancora vediamo sempre sulla prima pagina del gazzettino la questione banche ex popolari 6,4 miliardi per salvarle pressing su Atlante investa ancora le strategie verso la fusione Carlos attacca i politici si lavora intanto per far restare il fondo Atlante in maggioranza e poi ancora andiamo a vedere quest'altra notizia Seleco riaccende i televisori riapre la fabbrica a Valle Noncello acquisito il marchio si torna sul mercato ed è questa la notizia che poi troviamo in apertura del fascicolo dedicato a Pordenone e Provincia la società 20SPA ha acquisito il logo operazione con un'industria per rilanciare il sito di Valle Noncello tornano marchio e produzione nella vecchia fabbrica una cinquantina i nuovi assunti i dettagli dell'operazione saranno illustrati dopo domani in città e poi ancora sempre sulla prima pagina del Gazzettino vediamo ancora qualche articolo a Maniago via l'allenatrice degli esordienti troppo ambiziosa l'articolo lo troviamo poi nelle pagine sportive a Sacile il mercatino dell'antiquariato mette alla regia la proloco e poi ancora a Zoppola i ladri tornano alla Conad danni e bottino 10.000 euro andiamo adesso prima di salutarci a vedere anche la prima pagina del fascicolo che il Gazzettino dedica al Friuli cure complesse senza ospedale Telesca avvia il Day Service per trasferire in ambulatorio molte prestazioni di Day Hospital percorsi esaustivi pagando un solo ticket e con relazione finale tutto in 30 giorni la data è cerchiata di rosso sull'agenda della sanità regionale il primo maggio entro quel giorno peraltro vicinissimo si dovrà avviare il funzionamento del Day Service ossia di un servizio nuovo ed avanguardia con la missione dichiarata di sgravare il Day Hospital dalle eccessive inappropriatezze proseguire il trasferimento del ricovero ospedaliero alle cure ambulatoriali e permettere al paziente di conseguire nel giro di un mese il completamento di un intero percorso di cura oltretutto pagando un solo ticket e quanto prevede una lunga delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Maria Sandra Telesca questa era la prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino che tra l'altro ci ricorda nel taglio basso anche l'entrata in funzione del nuovo numero unico per le emergenze il 112 ladri in casa chiamate il 112 anche senza parlare centrale unica operativa da ieri in tutto il Friuli Venezia Giulia ma i vecchi numeri continuano a funzionare come detto anche nei giorni scorsi è prevista anche la chiamata muta quella cioè che si può effettuare se ci sono ladri in casa e non si può parlare è una delle possibilità che offre il 112 il numero unico d'emergenza che da ieri è attivo in tutto il Friuli Venezia Giulia ecco ancora la prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino che adesso chiudiamo per andare a vedere assieme gli appuntamenti principali di oggi su Udinese TV con l'aiuto anche della regia andiamo a vedere il box che ci ricorda appunto lo speciale del TG di questa sera alle 21 dedicato alla fiera del mobile di Milano al salone del mobile di Milano e poi alle 22 la replica della partita di calcio di Lega Pro tra Pordenone e Modena ed è tutto per il momento adesso come sempre ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi spazio a Maurizio Ferrari per tutte le notizie sportive rimanete con noi